Ciao a tutti e ben ritrovati per questa seconda puntata di Belluno Calcio in Rete. In questa seconda puntata ci occuperemo di settore giovanile dopo il positivo esordio della prima squadra domenica scorsa contro il Mori Santo Stefano. Quest'oggi ai microfoni di Belluno Calcio in Rete avevamo l'onore di avere la presenza di Antonio Torme, nuovo responsabile del settore giovanile gialloblu, che come sapete oltre ad essere stato un grande giocatore e allenatore ora fa parte della famiglia gialloblu. Io vi lascio quindi alle immagini e alle parole che abbiamo raccolto di Antonio Torme. Eccoci qui con Antonio Torme che tanto ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Per te questo è un ritorno, come hai più volte detto su Belluno è la tua seconda casa, ma partiamo un po' dall'inizio. Tu oltre che dirigente e allenatore sei stato anche un grande giocatore, facciamo un riassunto da quando hai abbandonato Belluno per girare l'Italia e ottenere risultati di un certo prestigio. Beh, diciamo sì, ho cominciato qua qualche anno fa, avevo 14 anni, poi sono arrivato alla prima squadra del Belluno che allora meritava in Serie C, e giocando a titolare da circa 18 anni, poi da lì è cominciata un po' la vita da calciatore perché sono stato prima a Firenze, a Fiorentina, poi all'Udinese, poi a Livorno, poi al Modena, poi al Foggia, cioè ho girato parecchie città, parecchie società per una quindicina d'anni. Qual è magari il ricordo che ti è rimasto più impresso nella tua carriera più che decennale? Ma insomma, sono tanti ricordi, anche se onestamente poi gli anni sono passati, si pensa anche a altre cose, eccetera, però ogni tanto, così ogni tanto, anche perché attraverso i social nerd, così si mette in contatto, e questa è una bella cosa con ex compagni, ex amici, ex compagni di squadra, e quindi magari qualche volta si parla anche del passato, non è che mi piace molto, però se lo fa, ma i ricordi del calciatore sono tanti, credo che forse quelli più indelebili, quelli che restano, sono quelli che magari quando sei entrato in determinati stadi, quando Mari giochi a San Siro, giochi all'Olimpico, giochi a San Paolo, giochi a Bologna, eccetera, questi stadi di grande pubblico, queste grosse emozioni restano, insomma, perché è evidente che non sempre si possono vivere. Si dice sempre che, insomma, un po' la bellunesità dà qualcosa in più, magari, per sfondare. A te è successo questo, insomma, diciamo, le tue origini bellunesi ti hanno dato magari un aiuto, un po' per sfondare un po' nel mondo del calcio, dove non è mai facile primeggiare. No, no, beh, diciamo che, insomma, i bellunesi poi ce ne sono stati altri, adesso ne abbiamo due o tre che comunque sono nei professionisti, non tanti, perché sappiamo benissimo che la scrematura è altissima e non è facile arrivare nei professionisti. Noi in questo momento, mi sembra, ne abbiamo tre, abbiamo Gazi, che è un grande giocatore, veramente, che ha anni che è lì e poi però adesso abbiamo due giovani, abbiamo, per esempio, De Col e Onescu che è partito qua da noi, che stanno facendo i professionisti. Ma magari arrivarci anche, si può anche arrivare, rimanerci, rimanerci per tanti anni, magari fare una carriera intera da calciatore, i 14-15 anni, è un po' più difficile, perché ci vuole tanta, tanta costanza, professionalità, passione, quella è normale, però ci vuole anche molta serietà e applicazione per mantenere certi ritmi per diversi anni, insomma, e restare lì. Dopo la carriera di calciatore è iniziata la carriera da allenatore e poi da dirigente. Da allenatore, soprattutto per i bellunesi, si ricorda senza dubbio il grande salto in C2 nel 2003. Qual è il ricordo di Antonio Tormenti di quell'anno? Beh, sì, beh, allenatore aveva fatto parecchi anni e i campionati ne ho vinti anche di più di uno, anche, e anche col Belluno ne ho vinto un altro portando i Belluni in serie D. Però è evidente, è chiaro che quell'anno è stato un po' un anno diverso, un po' anche da altri campionati, anche dalla vittoria di altri campionati, perché è stato un anno veramente fantastico. L'anno prima avevo fatto ancora io, subentrando, mi sembra, dopo un po' di giornate a Speggiorin, e siamo arrivati secondi, dopo una grande rimonta, però il Pordenone è stato più forte, e nonostante noi abbiamo rimontato, rimontato, non siamo riusciti a superarlo. L'anno successivo siamo partiti per vincere, era un campionato particolarmente difficile, perché c'erano tante squadre importanti, quindi non solo il Bassano, che è stato quella antagonista più difficile per noi, è stato un campionato tirato, che però poi alla fine abbiamo vinto alla grande. Abbiamo vinto alla grande perché non abbiamo vinto solo semplicemente il campionato quell'anno, ma abbiamo anche stabilito di record che hanno durato e probabilmente durano ancora nella Serie D italiana, abbiamo di gol fatti, per esempio un record che è difficilmente battibile, è quello che abbiamo fatto di 16 vittorie su 17 in casa, quindi è stato un anno veramente particolare, che ricordo con piacere, assolutamente. Cosa cercherà di portare Antonio Torme all'interno del settore giovanile giallo-blu, e come lo ha trovato, cosa si può migliorare, cosa c'era già di buono? Facci magari un po' un riassunto sul settore giovanile, forse più importante della provincia. Sì, qui ho fatto l'allenatore a prima scuola per tanti anni, ho anche allenato le giovanili, perché ho fatto due anni, in vari anni, ho fatto due anni juniors nazionali, quindi per me non è una novità, qui ci sono sempre usciti i giocatori, perché ci sono tanti, si parla di qua e di là, giocatori che vanno a destra, a sinistra, di qua e di là, poi si vede che i professionisti, come ho detto prima, sono tre, e sono sempre quelli, uno è uscito da noi. Domenica guardavo la lista del Belluno che è sceso in campo dal primo minuto, nove sono bellunesi, e molti di quali usciti dal settore giovanile, e quindi gli anni ultimi, gli anni in cui c'era ancora qua io, eccetera, eccetera. Quindi bene o male qua, con tutti i nostri problemi, perché problemi non bisogna nascondere, ne abbiamo come tutte le altre società, si riesce sempre a tirar fuori qualcosa di buono, a meno a livello di serie D, ma a livello di serie D siamo già quasi al massimo, perché torno a ripetere, a livello professionistico, in provincia sono tre, insomma, quindi averne nove dei bellunesi è già una grande cosa. Noi stiamo continuando su questa linea, io direi che ho spaccato un po' in due il settore giovanile, nel senso di progetti e di progettualità e di vedute, nel senso che dai 2002, cioè dai esordienti in giù, lo scopo è quello di far giocare tutti, di portare il più possibile gente, ragazzi, genitori al nostro interno, cercare di dare una mano a questi ragazzi, a farli diventare non tanto dei calciatori, perché quello è molto lontano dal 2002 a diventare calciatori, ma a farli diventare degli sportivi in genere, insomma, di ragazzi che amano lo sport. Se poi in futuro ameranno il calcio, meglio ancora, visto che noi facciamo calcio, ma se comunque rimangono all'interno dello sport, va bene. Dai giovanissimi e gli allievi che fanno il massimo campionato, fanno l'elite, il massimo campionato regionale di questo livello, noi siamo la società, siamo l'unica società belunese che fa tutte e due le squadre elite, cambia un po' la filosofia, qui andiamo a cercare un attimino un po' di selezionare, di scremare, anche se è una brutta parola, però stiamo già da quell'età lì, si sta guardando a dei prospetti, a quelli che possono comunque raggiungere entro qualche anno la prima squadra. Quindi diciamo che gli allievi e i giovanissimi hanno un percorso diverso da quelli che sono poi gli esordienti, le scuole calcio sotto, insomma. Un'ultima cosa prima di chiudere, insomma ricordiamo che il settore giovanile giallo-blu è scuola calcio Milan, quindi un bel biglietto da visita per tutti i bambini che vogliono venire a fare calcio qui a Belluno. I più piccoli, le attività dei più piccoli stanno partendo, comunque inizieranno fra poco. I 16, quelli piccoli e piccoli, gli attività hanno cominciato tutti. Ok, se vuoi magari fare come si dice un annuncio, non proprio un annuncio, diciamo, spiegare perché magari alcuni genitori che sono ancora indecisi su dove mandare i propri figli dovrebbero magari scegliere il settore giovanile del Belluno e cosa può dare il settore giovanile del Belluno soprattutto ai bambini più piccoli? No, io non voglio fare questo tipo di cosa. No, noi cerchiamo di fare le cose che possiamo fare, insomma, io l'ho già spiegato prima, gli allievi sono già in prospettiva prima squadra, quest'anno ce n'è già 2,98 Canova-Lazzari che sono già portati in prima squadra e spero, anzi sono sicuro che prima e alla fine esordiranno, eccetera. L'altro obiettivo è mantenere la categoria perché noi vogliamo mantenere la categoria sia nei allievi sia nei giovanissimi perché in queste categorie se la perdersi si arriva nelle ultime quattro, mantenere l'illite e portare altri 98 entro l'anno in prima squadra o comunque al ritiro, alla preparazione della prossima anno. Questi sono gli obiettivi negli allievi. Nei giovanissimi l'obiettivo è quello di mantenere come gli allievi la categoria e preparare questa grande covata che abbiamo, molto buona, molto buona, di 2000 a portarli a fare il prossimo anno gli allievi un anno avanti, un anno sotto, prepararli per fare. Questi sono i due obiettivi delle prime due, le principali squadre. Come dicevo prima e sotto, noi cerchiamo di fare un lavoro con i nostri allenatori che sono diversi e sono preparati. Abbiamo anche la possibilità di prepararci attraverso la Scuola Milan con degli istruttori che ci vengono qui mensilmente a relazionare i nostri allenatori. Abbiamo una collaborazione con Modesto Bonan che è il mio grande amico ma soprattutto è un grande preparatore e nei ragazzi è bravissimo. Quindi noi su queste categorie di piccoli cerchiamo di dare il meglio facendoli crescere in una maniera veramente sportiva. Il risultato io su queste cose sui esordienti di Giulio ho parlato già e agli allenatori non mi interessa proprio per niente. Mi interessa che i ragazzi stiano bene crescano in un ambiente sano facciano dello sport imparino l'etica comportamentale e credo che sia una bella esperienza per tutti questi bambini che si ritrovano qui allo stadio al sintetico eccetera e cominciano dalle esperienze nuove stando insieme a compagni che a scuola Mari non trovano Mari anche a subire tra parenti non subire ma a rispettare delle regole che nel calcio esistono dell'allenatore eccetera eccetera quindi è un'esperienza che io insomma da genitore farei fare ai bambini perché è sicuramente una cosa ottima per la loro crescita. Non c'entra niente diventare calciatori quella è tutta un'altra cosa questa è crescere facendo dello sport sano in un ambiente sano con delle persone per bene che cercano di fare il meglio con i mezzi che abbiamo perché non sono i mezzi del Milan o di altre squadre facciamo quello che possiamo. Abbiamo ascoltato quindi le parole di Antonio Tormen abbiamo fatto un po' di riassunto del suo passato un po' del suo presente e anche un po' degli obiettivi che ha per questo settore giovanile dell'Italenti Belluno io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana dove ci occuperemo invece di prima squadra e della parità casalinga tra l'Italenti Belluno e il Mezzocorona. Grazie a tutti